Ciao, cosa ordini? Eh, non lo so, il problema è che sta di corsa. Eh, tranquilla, in cucina sono svelti. Se vuoi una pinza che ci vuole poco, te la faccio fare. Ah, ok, perfetto. Allora, come antipasti, un supplì XL, cime di rapa in duia e una crocchetta. Ah, e poi mi fido di te. Mi prendo anche una pinza, tonno e cipolla. E invece per i secondi, allora, un controfiletto lardo e funghi e un raviolo di pollo. Eh, va bene, ma stai aspettando qualcuno? Eh, no, no, sono da sola. Ah, ok, il tempo che si fanno le cose te le porto. Perfetto, grazie. Ecco a te, cara, crocchetta di patate, il supplì XL, cime di rapa in duia ed ecco qua la tua tonno e cipolla. Oh, comunque tutto buonissimo, grazie. Sono contento che ti sono piaciuti. Vado avanti con i secondi? Ma ce la fai? Sì, sì, vai avanti, tranquillo. Ecco a te, cara, come da te richiesto, ravioli di pollo e il controfiletto con battuta di lardo e funghi. Oh, sembrano proprio buoni. Ho visto che hai apprezzato anche i secondi. Sì, sì, hai visto? Ma ora posso ordinarci un dolcetto? Guarda, cara, mi dispiace, ma siamo in chiusura. Ma come in chiusura? Eh, cara, sei arrivata alle 20, è quasi mezzanotte. La cucina ha chiuso da un bel pezzo. La cucina ha chiusura da un bel pezzo. La cucina ha chiusura da un bel pezzo.